Beh, Lux, 350.000 Lux, ma giustamente, beh, una skin, voglio dire, bisogna sfruttare la bella Richard Game Conqueror Non lo so, magari la versione Darkin, che essendo Bruiser vuole giocare col Conqueror, il Darkin Ovviamente non andrà, cioè, se va Assassin col Conqueror è un ritardato Se invece va Bruiser ci sta, perché comunque, cioè, non è da one shot, però, sì I primi livelli cosa fa? Boh, non lo so A me non, io non lo giocare così, però, dico, giustifico se lo guardo a un certo punto di vista Di sicuro non fa danni, no, non full tank, Bruiser, come Dario, cioè, con oggetti di danno, che ne so, Black Leaver e poi non so che Black Leaver Sterak, mo sto ipotizzando, eh, Black Leaver Sterak Visage Visto che ha Visage? Mamma mia, che game da Visage bello, se ci mancava soltanto Evil in Jungle, mua, proprio Però, non si può volere tutto dalla vita Io direi di andare con questo, contro di lui, sì, 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 sì Tanto, all'inizio, aspetteremo Sound, mi sembra un po' bassino Più del solito Ah, certo che è più bassino, aspettate Venuto in mente, oh Venuto in mente adesso Ecco perché era più bassino Eh, no, no Ok, io vado back, nel dubbio Gli ho dato un po' di cazzo, al gattino Sono strattato di Q, tanto sono contro Vladimir, quindi voglio dire Non è, cioè, è l'unico start fattibile contro Vladimir, la Q So, dopo per farmare, non so, va bene così Dunque Io speravo stessi trollando In che senso, Wolf? Ah, dici troll in iron? Vabbè, quelli di sera, cioè, se faccio Se li faccio sempre, poi perdono Per ogni gusto Beh, it's real, però pure te Oddio, cosa sto vedendo? Che Kane proprio Vive un'altra partita, lui Non si sta accorgendo di nulla Allora Puoi prendere un periculo, maveri Bella, beer Dunque Dunque, dunque Il gatto, penso, sia Non so da cosa sia startato Perché, ok, da red Perché, per forza, è startato da red Boh Hanno fatto un invade brutto, secondo me Eh, Vlad, della vita mancante, se ne sbatte altamente Questi li prendiamo tutti di qua Non ne ha missato uno Bravo, ragazzo Stiamo lontani Lasciamo che usi la sua Q potenziale Niente, un altro autoattacco Sì Ah Vedo che flashiamo, eh Ai, ai, ai Ai, ai, ai Perfetto Perfetto Ci siamo già fatti rispettare, bella Char Ciao, carissimo Eh, eh Tu per me ha LVX Datceffi LVX Datceffi Grazie, carissimo Ah, ah Eh, ma Sono un po' di turn out Con l'attack speed di un babbuino, proprio Eh, liscio Attenzione Ok Sto a pensare Executioner Culling First item Quello proprio Nulla da di Nulla da fa Oddio, c'è l'executioner Culling o anche la No, forse è meglio il culling Vai Sì, come early item Tanto la Tormail C'è, non è che meglio tipidità Oddio, però anche contro Ranger Non lo so ragazzi Tormail o executioner Culling C'è Non so come si dice in italiano Quello che diventa il memento more Se non sbaglio Riflessi Executioner Sì, penso anch'io La Tormail è giusto per Ranger Il tipo, vabbè C'è anche il jungler Perché C'è nel senso Il Come Il mortarema Sì, il mortarema Non è un oggetto Proprio bellissimo Da fare su Darius Vabbè Executioner fino alla fine Poi vediamo alla fine Se cambiarlo o no Ci sta Guardate come è diventato Bello passivo Che bella capretta Che sei Sì, vabbè Però C'è qualche problema Nell'utilizzo dei flash Tre flash abbiamo usato Mamma mia Succosa la kill Bella succosa Vabbè Ok Andiamo back Ci vediamo il culling Bella Dragosnik Bella Inside Ti chiamerò Inside Perché il resto Non l'ho capito Un po' stupido Scusami Ok Andiamo di questo E basta Non penso di tornare DTP Dai Fammi una Bravo Fammela La in mezzo Non frizzarmela Bravo ragazzo Guardate Così non ne perdo Nemmeno uno Di minion Perfetto Perfetto Burst Refresh Per una kill No Cioè Ni nel senso Ha flashato anche lui Magari Dipende anche dall'elo Qua va benissimo Tanti flash È per quello che si usano In silver In gold Quindi Quindi qua Va più che bene Nessuno verrà a punirci Cioè non hanno la mentalità Ok non hanno il flash Facciamo gli obiettivi Sfruttiamo Le nostre vantaglie Qui il flash È per prenderla Kill punto Quindi Bella Tariaki Va benissimo Così Poi ho flashato anche lui Abbiamo preso due assist Caccia via Non si butta Qualcuno perde il carretto Tenzo Ah Rip carretto Rip carretto Ok io direi che In 1v1 Lo 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 desintegro In questo momento Però non penso Riuscirò A raggiungerlo Tanto facendo Perché lui il flash Adesso ce l'ha Ha il phase rush Ha cool dark action No Non lo killiamo Non lo killiamo Perché non lo raggiungiamo E mica perché Cioè I mezzi per killarlo Ne abbiamo anche troppi Non è quello Ovviamente Tic Tic 46 a 26 Ok Pensando un po' Una minion Diciamo sono sopra i 15 CS Due wave Poco più di due wave Sempre che questi Li prenda Dove è andato Il ragazzo Boh È sotto torri È parcheggiato No Dove cazzo è Chi sta arrivando Chi c'è No 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 Ecco Dove voglio andare ragazzi Avete visto Sa che è sbagliato strada Vladimir Qualcuno ve l'ha sbagliato strada Avete visto Mai più Non ti permettere mai più Di sbagliare strada Allora Qua c'è un gatto Che sta salendo La domanda è Me lo becco qui in faccia Signore gatto Eccolo qui Discreto Buono così Ho ultato lì ragazzi Perché non potevo aspettare oltre Se no andava sotto torri E poi Si è messo lì fermo ad ultare Quindi c'è nel senso A sapere così Continuavo A sapere che si bloccava così Come un ceppo di legno Però Ma quello non mi ingaggerà mai Zio Mi spiace Eta ta 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 Non mi prendi Non mi prendi Ok Perfetto Guarda qua che bella wave Ottima ult E ottimo flash ragazzi Bravo Come va ragazzi In chat Vi piace il tutorial Tutorial di Fieric Arrivo Non ho la ulti Però penso di sfiancarli abbastanza Eh no Inutile Bella Fieric Grazie mille bro del sub Ma Vladimir Dove cazzo è andato Raga ma questo qua Non è uno normale Si Esatto Esatto Oh cazzo Ah niente Me la son giocata male Ma non potrò assolutamente Fare nulla Cioè M'ha inchiodato Non pensavo Non penso Poter fare più di così Sinceramente La domanda è Black Cleaver O Trinity Mmm Non lo so Contro i loro Forse Black Cleaver È un pelo meglio Prendiamo le scarpe Intanto Cioè la Trinity Mi fa fare un po' più di danno Ma è davvero Quello che mi serve Boh in realtà Sono tutti squishy Potrei andare anche Di Trinity Vabbè dai Sì ma non è soltanto Il fatto dell'essere squishy Cioè è worth Per carità Però Cioè guardate anche Che la Black Cleaver Vi dà 100 di vita in più E costa Decisamente meno Voi dovete pensare Anche a quanto costa Black Cleaver In confronto A Trinity La Black Cleaver Costa decisamente meno E vi dà addirittura 100 HP in più Quindi In alcune situazioni È meglio avere Quegli HP in più Eccoli No 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 Mai più Mai Mai Non mi nemmeno Vedo che Dagli altri Le parti Sta andando Un disastro Oddio Questa è una plate Che vorrei Sinceramente Via Va bene dai Vada di Trinity Vada di Trinity Abbiamo perso Il Drake Abbiamo perso La bot Sì Esatto Proprio così Proprio così Ragazzi Ah Mai Mi fa troppo ridere Se busti In plot Potrei Mi piacere Anche di più Come tutorial Eeeh Adesso Bella Giarrita Non avevo visto Come va signori Questo lunedì pomeriggio Bonnie da Young God Quello Oddio Oh Gesù È arrivato Il lane swap È finita per me Non c'è modo Che io possa Contestare Quella di Carrie Insieme a quel support Devo wave clearare Se venissero Sarebbe anche meglio Quello al 7 Mi sa un po' poco Oddio Noi Sono io che sono avanti Sono io al 10 Sono l'unico al 10 L'Adi mi dovrebbe essere Andato a bot Ma a me Se ne è più andato L'Afghan Che fine han fatto Uè Clappe Oddio Ok È sempre così Quando la bot Viene top Con un champ Come Darius Liguarm Ok L'ho visto Rengar L'ho visto Toccando A Rebe Ma Potete per favore Prendere questa Fate qualcosa Vi prego Eh Eh vabbè Questi Ok guys Vedo belli ferrati tutti 3 e 7 siamo Eh Vlad the bot Killare Killare Non riescono a killarlo Abusato Clappe Voglio farti una duina Dopo Oddio What Ma sono ritardato Ragazzi 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 non sa No scusate Scusate Lunedì mattina Mi sveglio le 6 e mezza Lunedì mattina Quindi è grave per me È grave per me E pure per loro evidentemente Non sono l'unico Dai Almeno C'è una compagnia Vedo Molto bene Molto bene Mid Come non fosse successo Nulla Ragazzi Bella clown fiesta Bot Boh La torre Riesco a prenderla Per quale Sa quali Scrive ragioni Fanno il tuo stesso lavoro Può essere Eh clap è quella Ma meno male Da settimana prossima Non ci sarà più Questo Questo Inferito Bella Shirtle Grazie Della Riesab Bentornato Nella Felix Minchia 100% kill participation C'è 3 su 3 Grazie Bentornato Però grazie 3 mesi Non ho messo Troppo incoglionito Che poi stamattina Ovviamente Incidenti in autostrada Le peggio tragedie Cioè Della roba che Porca puttana Come cazzo guida la gente Ancora non me lo spiego Cioè Previamente Verso Firenze Ragazzi C'era l'incidente Che mi allungava Di tipo Due ore Il tragitto Quindi ho dovuto Sono dovuto Uscire dall'autostrada E riprenderla dopo Mamma mia Sono uscito a Firenze E sono rientrato Al Mugello Maggio Quei tipi di Vladimir Eccolo lì Il buon Vladimir 011 Full niente Che branco di beduini Ragazzi che siete Triniti Dove averla ormai Eccoli lì Eccoli lì Proprio loro Prendo questa wave Toscana e i cuori Ti vai a giocare Kennen? Non è che mi piaccia tantissimo in realtà Potrei provare Non so A parte che non so se ce l'ho in sto account E non so nemmeno sui soldi E non so nemmeno sui soldi Allora Ecco perfetto Bocelli Comunque vedo che qua Cioè almeno non flammano Almeno non flammano ragazzi Rengar c'è Rengar c'è la con te Rengar è morto E non ho nemmeno armor Quindi dovrebbe solo vergognarsi Solo magic resist Però non flammano Shirtle si Hai resubbato tre mesi prima Cosa ti è crashato? Bella crypt Non ho letto se il claprone aveva voglia di fare duo Ah perché non me l'ha scritto Giustamente io non l'ho letto Ok no Questo è assassin Però col conqueror Perfetto Un idiota Bella zio posti Bentornato a FelixArne Zio posti Bentornato bro Come stai? Spero tutto bene Quello mi fa la protobelte in faccia Proprio temerario ragazzo Sverginator ti supporta sempre Grazie mille allora al signor Sverginator Ne sono assai contento Sverginator ti supporta sempre Io ci provo Però So che non andrà a buon fine questa cosa Vieni più in qua Vieni più in qua che non ci vedono Se riesco a prendere lo sneaky potrebbe essere una svolta questa Anche perché la botte era top e non l'han presa Cioè pure loro sono ben poco svegli Pure nemici Questo è molto buono Questo è molto buono Che cringe Che cosa? Che cosa è successo? Ta 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 Ehi Ehi Allora Sto pensando a cosa devo fare in questo momento Potrei piazzarlo top e tirar dritto Però Però non lo so Sicuramente top c'è Vladimir Ma Vladimir quanti problemi può dare? Beh sicuramente non posso day varlo ecco Day varlo non posso Ehi Grazie lo so Sono l'unico che ci crede veramente in sto game Ne sono assai convinto Via Ti ho un'altra bella capocciata E olè Damage Ecco qua Hai il red Evviva evviva Ho il red Qua ho tolto quel che poteva Io non potevo ovviamente seguirlo per ovvi motivi E la bot fa schifo Vabbè Kenny con la cometa E zero al teleport Il sapro con l'ial Ma cos'è? Con questo qua che va Che in assassin Però con il conqueror Cioè nel senso Mi sembra veramente È come giocare in iron Però siamo in gold E adesso Giancarlo Questo per dire che Diciamo Ovviamente è la stessa cosa Però è un bravo ragazzo Comunque Io credo Quando dice che è innocente Tutto sommato Oh no Bella Giaggio Lili Arthur Sono soltanto per i sub I vocali I bispi Io ragazzi È che provo A splitare Cioè Che posso fa Gli unici che mi dann fastidio Sono la bot lane Gli altri Come abbiamo ben visto Fanno la fine che hanno fatto Diciamo che gli altri Non sono un grosso problema Ecco Olè Questo è molto buono Cioè raga Piano piano Li cariamo questi Avete visto? Ha flashato pure lei Mannaggia Sta froia Cioè penso Abbia flashato Come si è posizionata lì Volevo prendere La di accetta di Q Vabbè Buono così Abbiamo preso Vabbè Il dubbio Lo pinghiamo Mannaggia Bukin Lì purtroppo Allora Lì potrò killarli tutti Però avrei dovuto Prendere con la Q Lei Lei non riesce a prenderla Perché è l'unico decente In tutta la partita Quindi Serve la Tormil Per Xayah No Serve Randuin Full crit Andiamo di Randuin Qu'altro che la Tormil Adesso intanto Prendiamo Lo Sterak Che comunque Quello ci dà Ci dà un bel po' di roba Poi andiamo di Eh sì Ci servirà Se vendo questa No 900 gold Non mi servono niente Ottimo TP De Zia Complimenti Si vede Che hai fatto un tutorial avanzato Da The Game JK ovviamente Jacopo è bravo Non avrei mai fatto una cosa del genere Ecco Ma la faccio no cazzo The Game E lui Era una battutina Jacopo è bravo C'è gente peggiore Ben peggiore Allora Se io Tiro dritto qua Cosa potrebbe mai succedere Alla mia base Eh Se non vuoi rischio di perdere la base Con il mio team Siamo già messi così male Eh ho paura di sì Però top Chi ci viene Rengar Però vedo che Zerial sta facendo un buon lavoro Quindi Ovviamente però Non posso divarlo Fino lì C'è un limite anche a Darius Bravi Bravi Ci sarebbe anche questo in realtà Dai Rengar Ci hai già provato a bastare Oddio Se avessi saltato lì Se avessi saltato lì Mannaggia Axerto Datemi sto cesso Finalmente posso fare Uno V4 Il problema dello Sterak ragazzi È che è un item Che finché non lo completi Non serve a un cazzo Easy one shot in chat Per favore Easy one shot in chat Ha fatto merda Tutto il game Ma questa kill vale tutto Questa kill vale tutto Questa kill vale tutto Cazzo Bravo Adesso andiamo di Randwin Raga perché Perché lei fa tanto Tanto danno E ha tanto Tanto crit Cioè considerate che Rengar non riesce a shotarmi Da solo Nonostante io non abbia Nulla di armor Cioè questo è il primo oggetto armor Che ho 15 Zio posti Entrambi in questo caso Bella Titan Blitz Tarex Duck e George Buon pomeriggio ragazzi Il chimico rilassato Buon pomeriggio Vandowulf Adesso Li spacchiamo Allora Mi serve un po' di armor Perché altrimenti È complicata La storia Ovviamente Perché insomma Loro due mi shot Come avete Cioè Lui fa un po' fatica Però Fanno tanto danno Ecco il punto è quello Quello è poco ma sicuro Specialmente la di Carrie La di Carrie fa tanto Tanto danno Quindi Non posso pushare Non c'è nessuno Cioè questo che Va avanti Sembra un bot Bella Fabio Cazzo Ovviamente c'era la DC Beh quello Era scontato Sono livello 15 Lui è il 13 Hello Ma mi ha preso Di ultimo Che cazzo hai combinato Zio Oh Gesù Sta seguendo la build Consigliata Black Cleaver Anche se La Yomu Oh Flash dentro L'ulti di Lux Madonna Che clone fiesta Ragazzi Madonna Che clone fiesta Bella Lalla Eh Si cerchia Si cerchia di fare qualcosa Ma Clone fiesta Ce la faccio E' andare lì Sì che ce la faccio E' rischiosissimo Però Rischio di schiantarci In realtà No c'ha ragione Devo tippare qua So Mi fanno il culo Se vado lì Basta Bravo Riesci a prendere anche lei Scono messi L'importante Ok L'importante Era cancellare La di carry Comunque L'importante Era cancellare La di carry Quindi Worth Rengare è vivo Comunque Glielo pinggo Tanto per Anche avesse killato Ezreal Cosa ci guadagnava Scusate Veramente A livello decisionale Ragazzi Molto Ma Oh E Bobby Qua che combina E Bobby Fa la kill Vabbè Oh hanno ucciso Ezreal Ce l'han fatta Il resto è quello che volevano No Andate via Per favore Dalla mia vita Ok Ragazzi La smettete di rubarmi le cose? Cazzo Mi servono dei gold Bello il maggio prosetto Malchiever assassin Ok C'è l'inferno Raga Mi servono questi Oh Gesù Cristo Ce l'ho fatta Oh Non me lo Volevano far prendere Una cosa incredibile È da mezz'ora che pingo Mi serve un 200 gol Per quello La wave I campi Andate a fanculo Cazzo Di teammates Di merda Non credo Avendo wolf Non credo proprio Non Non seguo Quel mondo lì Mi dispiace Ecco qua L'uomo bait Tanto Rengar Boh Gioco un altro game Probabilmente Questo flash è bello Mi piacerebbe un sacco Prendere tutto adesso Abbiamo due infernal Eh ma aspettiamo i minion Ma 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 Quindi Quindi ragazzo Penso abbia qualche problema Serio Mamma che fatica Che fatica con questi Bonobos Cioè cosa mi sta a significare La merdata che ha fatto Esattamente Grande Deto Vabbè si inizia dal basso Oh Cosa Annie Oh Gesù Che figura di merda Tra l'uno e l'altro È vero Io l'ho sfiorato Con l'accetta Ragazzi L'ho proprio tagliato Il pelo Gli ho tagliato il pelo Altro che Visage Visage Assolutamente Anche se quelli Fidati Non sono il danno a P Ma tutti danno a P Quindi visage Tutta la vita Anche perché ci aumenta Di tanto le cure Non ha merdata Che fuso i nemici Una strategia Ah ok Ragazzi ma non c'è Chino Ci becca sempre Bella Crueless Siamo quasi al 18 Noi Bisogna stare attenti a Vladimir Per quanto questo non sia molto forte Cioè stiamo arrivando in late E sappiamo bene come Vladimir Late game Dico bene ragazzi Bella Xene Official Dreamer Che non lo sapevo Eh Ah Vabbè dai Più importante il suo flash Del mio Oh figlio di puttana Dovemo pushare altre lane Tipo questa Che ha fatto Che ha fatto Kane È morto No Dai È inseguito Lux Ha ucciso il support Ed è morto Morto Il jungle per il support Cioè Che sta a 2-7 Oltretutto il support Cioè Se non è morto Uno scambio del genere Davvero Non so cosa lo sia Cosa potrebbe esserlo Io non penso che entrerà mai nessuno qua dentro Nel breve periodo almeno A meno che non vogliamo aspettare qua tutta la partita Sarebbe questo eh Mi piacerebbe tanto andarlo a fare Dai non sta avvenendo da Ah ok Comunque dopo la visage potrei prendermi la Tornil Sapete effettivamente Non ci schiantà per favore Tanto così tolgo questo Sempre quello che toglie le cure Ma almeno Ho armor e rifletto i danni Meglio Meglio piuttosto che prendere sto cesso qua Non mi serve veramente a nulla Oddio quanti Sì ma Ma la madonna poi Cioè Oddio In carità non mi toglie un cazzo eh Però E quello flash No No Ci abbiamo fatto a killar Vladimir Sì Madonna la GA che fastidio Che fastidio sta GA Che fastidio sta GA Eh sì Jari È quello che voglio fare Perché vedi che danni mi fanno Io devo essere la front line Il problema è che C'ha sempre la GA Sai è un grosso problema Mi fa danno nonostante tutto Perché ovviamente È full crit 100% crit Questo sì mi aiuta tanto Mitigato Quasi 1700 danni Beh Cerciamo la visage E poi andiamo di Tornil Questa però dobbiamo finirla Questa se la vendoni da 5,60 Ce la faccio Però dopo non ho più quello per togliere le cure Ma Quanto mi serve effettivamente adesso Ha un cazzo Preferisco avere la visage E poi prendere dopo la Tornil Tanto Cioè per le cure che tolgo io Lei non si cura Gli altri è insicuro Solo Vlad Mi è messo a 2,6 Sti cazzi delle cure Andiamo così 6,6,6 Ah Devo iniziare a preoccuparsi adesso Allora Ragazzi Cosa facciamo? Cosa proponete? Lui muore Così gli regaliamo il Nashor Perfetto Esatto Un'ottima idea dire Non male come inizio Io prenderei questo Io prenderei questo Sinceramente Sta double Che l'è bella fresca È fresca Come la frutta La frutta fresca ovviamente Noto che i miei teammates Non sono messi benissimo In realtà Che cazzo di lupi qua Io ho il TP Bello Ragazzi Pronto Pronto Pizzeria Oddio Questo è buono Potremmo finire In realtà Penso Mi ero scordato Di condividere Non con questo team Spaccali tutti Grazie carissimo E zero E zero E zero E zero E zero Ok Quindi Non possiamo finire Le immagini No Non c'è che Se l'avessi killato Qui l'avremmo finita Non così Ma ha missato Di ulti Quello Con i zero E le regali Avemmo finito Il game Sapete Lui no Lui non lo sapeva Lui non lo sapeva Vabbè Lui non lo sapeva Allora andiamo di Tormill La protobel Sulla torre Davvero Sicuro di aver visto bene Oddio Vabbè Kill è morte Kill è morte Peccato Quasi double kill Sarebbe stato super worth Invece no Noi abbiamo perso il jungler Il nostro jungler ragazzi È una mebba vivente Cioè è sempre Uccide e muore Uccide e muore Ma lui capisce Che è il jungler Gesù Beduini time Vuoi scantare? Dai ma la killata davvero Ma che è Boh raga Non ci siamo davvero Non ci siamo veramente Cioè è incredibile Il nostro jungler Non esiste Muore tutte le volte Che ci sono Detti Come si fa? Come si fa? Silver 1 general Però Cioè il mio account È silver 1 Loro sono gold Non che abbia Grandi aspettative Per carità Però Cosa fanno in due? No It's real Ma Scusate Cioè Vladimir Qua Ma lo vede Ma avete gli occhi Ma siete tutti Bocelli Mamma mia Ragazzi Che tragedia Che sta gente Sì Sono gold Ma scusate Ma soltanto io Ho notato che Gli ha tirato la pianta dietro Come fai Zero A non accorgersi Ti giuro Non ci vedono Non ci vedono Hanno problemi La vista Secondo me Bella Ma è caro Ma Xayah Dov'è andata Huck What? Oh Gesù Partito il decision making Quello potente Di Xayah Ha capito Qual era il suo obiettivo Il suo scopo Nella vita Ma guarda Qui la fa il drago Ma Ragazzi Ma io la Ma che Ma 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 No vabbè Non è possibile Orianna Ragazzi Io ti giuro Ci sono delle cose Che Non so come descriverle Non so come descriverle Sono delle cose Allucinanti Sono allucinanti Quella lì Si è fermata A fare il drago Tu sai Pit stop Pit stop Ha fatto il pit stop La ragazza Cambio gomme Ma dimmi teo Lo steal di Ez Si L'ha stillato Orianna Dimmi se Facciamoci il Nash A sto punto Cioè Tanto voglio dire Dobbiamo vincere Di nerd Perché Capacità di vittoria Qua Esatto Lux Esatto Vi fate prendere Ma quanto siete veloci Vabbè Vlad col phase rush Non posso di certo Prenderlo Quello è poco ma sicuro Poi almeno adesso Posso farmi questo Così ho altro Ho altre tenacity Welcome back To the fire Sub Ok Bella Mets Darius non perdona Grazie Darius non perdona Bentornato a Krizar Bentornato bro Grazie di 28 mesi No non sono in ferro Terra Siamo in gold Aced Ok Ok Vuol dire che come Build ci sta Non so Non saprei cos'altro A cambiare Sinceramente Il glory Dici Al posto Cazzo è stato Ho sentito un Posto della Tormill Quanto rifletto Di danno Ogni colpo 39 Sì non è tanto Ovviamente Il danno Bello Ma 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 Lux Ok ragazzi Fate pure il baron Sì Va bene ragazzi Il baron Il baron Esatto E quella è la priorità È il baron No ma sono allucinante Queste persone Cioè sono morti tutti Non la chiudono Non so se vi rendete conto Della gravità Di queste persone Grazie Scertala anche se avevi appena Subbato Ma che finghi Merda E lo so E lo sceno Io muoio Madonna santa No vabbè Non è possibile Non so perché Non so perché Ma sotto sotto Io spero di perdere Cioè proprio Nessuno si merita Di vincere di questo Non lo meritano Non lo meritano Vinciamo Però Non lo meritano 44 minuti Sta merda Non so se vi rendete conto Però ci schia Esatto Bravissimo Ottimo Ottimo ragazzi Riuscite a finirlo Oppure manco stavolta Dai Coraggio Bravi Che merita Di vincere Sì Il calcio nel culo Mentre di vincere Dai Finite sto borco Per favore Oddio Sì I minion Vangono più Del mio team Messo assieme Bella Bobolops Grazie Della resub Bro B O B O L Il sub Regalato 96 Gitte Da tieni Non 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 Furious Grazie Bobbo Grazie Carissimo Olè Rune Vediamo un po' Ehm 900 di healing Beh Butta